20. Inter-scambio Che cos'è la consapevolezza? Commento È un inter-scambio tra la realtà che si vive, le capacità dei propri sensi e la densità della materia del piano in cui si vive. La consapevolezza coinvolge il modo di essere dell'individuo in quel piano e proviene dalla coscienza per cui maggiore è il sentire maggiore sarà la consapevolezza in ogni piano di esistenza.